Niente, se attacchiamo è peggio. Perché ho partecipato? Eh, guarda, dovrebbe essere facile. Metti tutti i carri armati su un punto e attacca un unico punto. Eh, ci sto a provare. Lasciamo anti-panzer. Ne faccio anti-10, cioè... Ecco, sta avanzando pure la Cicosovacchia, ma. Come sta avanzò? Stava, ma non vi. Attacca a destra, che là non sto senza forti. Ah no, ci stanno. Sto andando, sto andando. Ma prendo praga e fafamfamf. Ok, perché se attacchi forti poi non riescono... Però che non farteli chiude. Sta a posto. Sto andando a bombardare, come se non ci fossero domani. Pregge è presa, eh? Perfetto. Perché ho un capitolo? Eh, non capitolo facilmente. Tieni la, fai spiegare le truppe. Cioè, chiudi una linea. Ma chi se ne frega, adesso lo ricerco in Tiger, intanto tra 300 giorni avrò finito. Lo ricerco già adesso. Chi fai? Vero. Proprio. A me non me ne frega proprio un cazzo. Si avanza? Uh, no. Gitanca ne avanza, no? E ancora? Possiamo avanzare anche noi. No, che è un cazzo che avanzo io. Sì, ma le tue divisioni sono fortissime. Perché sono... Sono leggeri, come ti posso dire? Mugumo, leggeri. Diciamo, si rivorsano presto e... Come fanno? Passo sulla velocità. Eh, dico, come fai a... Guarda, c'ho un sacco di ore su Earth of Iron e... Non era una tecnica che mi piaceva, sinceramente. Poi è una tecnica... No, dopo un po' ho iniziato a vedere che funzionava, quindi... Perché c'ho una truppa mia nel territorio nemico, senza averlo conquistato? Perché non ho già sono andato in là. Perché ci sono le nuove famiglie. Col pensiero! Ho preso da B or no. Sto a cercare di prendere l'aeroporto. Nel frattempo... Cazzo, mi piace. Mi piace, voto 10. Tutti sono forti, con i forti. Poi... gli... 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 gli togli! Eh, madonna, guarda, guarda come piangono! Scappano! Guarda, guarda, non c'è più nessuno! No, ma io questi qua voglio riconquistare Praga. Oh, oh, come si sono liberati? Eh, perché hanno attaccato così, no? A decazzum, e allora ci sono riusciti. La miglior strategia... Oh, i sani russi! Eh, sono arrivati tardi! Guarda che sono arrivati tardi! Io ho distrutto tantissime divisioni a questi, ma... Lo sai che mo' sono cazzi? Sono cazzi! Arrietami... La sottopira! Tranquillo! Adesso arrivano i rinforzi! Quanta, quanti... Quanta, quante divisioni? 24! Aspetta, 48... 72 divisioni! Aspetta che mo' attacco eh! Aspetta solo un secondo... 3... 2... 1... Pum! Niente! Mi hanno dato i flussi disperati! Mi sono che attacca! E ora attacco io! Manz! 72 divisioni che attaccano in maniera... Madonna! Puri i russi ci sono! Buongiorno! La 133esima! Sì, vabbè, addio! Proprio, la 133esima divisione! Che che è? Spicchio spacciso! Spicchio! Allora, intanto mi sto fortificando... Sto fortificandomi! Fortificando fof! Ma... Guarda, guarda! Mezzo, non mi usciva ad avanzà! No... Sto fortificando... Io sto attaccando... No, perché non attaccano le mie? Scorci! Intanto l'Austria è ancora viva! Gli inglesi e francesi non fanno un cazzo, come sempre! Meglio per noi, no? Buonissimo! Ho fatto come avanzo nei tedeschi! Buonissimo! Sì! Ho fatto l'Ungria! Bru! Proprio! La Romania è garantita anche dal Regno Unito! Ah, ma me la stoffo, amico, allora, ma io Eppure, amico, me la faccio, amico Facciamo the best time I attacked the wall E, signori, Battisnava è stata presa C'è poco da fa' Non capito, ma Ah, no, Battisnava, ok, mo' è conquistato Addio Take off states No Non penso ce la vai Quasi Lasciami Zaolizie Dov'è? Ok Te ne avrete Passa Ah, sì, scusami Zaolizie, te ne tieni tu, così ci fai 5 di anti-air Un passettino al massimo Togli radio Ah, posso fare Puppet Ma fallo No, ma che cosa Eh, vabbè, ormai è ufficiale La Germania è tornata Ho pure riparato Ma dove me ne metto ste divisioni? Sulla Francia? Conviene sulla Francia, sì La Polonia non penso di comprare il cazzo Sì, no, sai che potresti fa' Potresti Diciamo Aiutarla la Polonia Che mo' Adesso la Russia La attaccherà Bene, dici Ci penso Ma non penso E lei in cambio Ti dà la danza Se tu gli dai la La difesa Di il territorio Mazza E no, perché mo' Se io mo' Faccio questo focus Francia e Regno Unito Saranno un po' Cambiati con me Quindi mo' Mi diamo Il mondo Mussolini? Ehi! Tieri Attenzione Attenzione Vabbè, Kindle Imperial Sentiment Eh Che Kindle Però non so come si dice Che Kindle Cioè, non so se si dice Che Kindle Un po' Boh, ma che cazzo Potrei fare in piano Schmiffen Schmiffen Once more Una volta ancora Potrei Perché no? Non lo faremo Però I band Giusemburgo Sono Non sono Anniate di nessuno Mmm Sì Anche se credo Che ormai a quest'ora Saranno molto fof In Giusemburgo Certamente no Vabbè C'ha due divisioni Ecco, occhio Che c'ha due divisions Fermi Tre fabbrici militari Oh Sta attento Perché Voglio dire Non si può mai Non bisogna mai sottovalutare Il nemico Capito? No, ma devo pensare Più che altro Rebuild the nation The nation The bookie Eh, quello là Devo Così E' un po' Perché l'Austria Ungheria Non fa un cazzo Perché? Che dovrebbero fare? Eh, dovrebbe spawnare L'Austria Ungheria Come spawn? Sì Ma perché dovrebbe spawnare? Tra un po' Sì, dovrebbe Beh Maga È la prima Ma deve essere un grigio A farm Dovrebbe Credo Tipo Diventa No, no Se hai fatto tutto Piano piano Dovrebbe spawnare Ci vuole un po' Di tempo Un po' Tanto? È che dovresti Boostare Il non allineato Dovremmo boostare No, non possiamo Cazzo Io non posso fare Nessuno dei tuoi Eh, cazzo Perché la La cosa Stanta fascista Cazzo Trade the deal With Germany Eh, mo' È così, eh Eh, stai Vabbè, vabbè Join the axis Ma non esiste Finalmente Succede qualcosa Cosa? Che cosa? Ma Che? Ha capitolato La cosa sbagliata Perché? Perché non è È il cosa Il puppet del Giappone Eh, non su di ciena Cina Fortissima Mi so, come Gissa, comunque Però ha un buon Un buon lavoro Vedi le divisioni Che stanno sopra Vicino alla Danimarca Guardate come C'è un nuovo skin Guardate Un nuovo skin Vicino alla Danimarca? Mhm Eh, quanti cazzo Di Tiger C'hai? Eh, dovrei Producire Antti 14.000 Ti sei trasformato Tutte le divisioni In divisioni Di carri armali Sì, alla fine Sì Tutti Tutti C'hanno almeno Un carri armato Bello Sono Tiger Sì Sono Basta Perché se no No Sennò non è buono Noi dobbiamo vincere